bentornati amici andiamo avanti con il libro il trans surfing in 78 giorni giorno 7 l'illusione del riflesso dichiarazione l'uomo assomiglia al gattino che trovandosi di fronte a uno specchio non si rende conto di vedere il riflesso di se stesso così gli sembra di essere in balia di circostanze che non è in grado di cambiare ma di fatto si tratta di un'illusione di trucchi di scena facili da scoprire se solo se ne avesse la volontà l'uomo senza rendersene conto gira in tondo per un circolo vizioso osserva la realtà esprime il suo modo di rapportarsi ad essa lo specchio fissa nella realtà il contenuto del suo modo di rapportarsi ne risulta un nodo chiuso di retroazione la realtà si forma come un riflesso dell'immagine dei pensieri dell'uomo mentre l'immagine a sua volta per molti aspetti è determinata da riflesso stesso il principio della gestione della realtà consiste invece nell'invertire questo circolo vizioso e farlo girare nel verso opposto guardare prima in se stessi e solo dopo nello specchio interpretazione l'uomo legato allo specchio dal suo modo di rapportarsi ovvero da una reazione primitiva istintiva ai fenomeni della realtà cerca in vano di afferrare la sua immagine riflessa nel tentativo di fare qualcosa per cambiarla ma proviamo invece a far cambiare direzione al circolo vizioso dello specchio esprimiamo il nostro modo di rapportarci alle cose lo specchio fissa nella realtà il contenuto del nostro modo di rapportarci osserviamo la realtà che cosa succede operando in questo modo inverso la constatazione dell'immagine riflessa primitiva impotente cessa e cede il posto a una constatazione dell'immagine intenzionale mirata di quello che si vuole ottenere in altre parole invece di lamentarmi come faccio d'abitudine per quanto vedo nello specchio e non mi piace gli do le spalle e comincio a formare nei miei pensieri quell'immagine che vorrei vedere questa è la via d'uscita dal labirinto dello specchio cambiando il senso di circolazione il mondo si ferma e inizia a venirmi incontro a muoversi verso di me quando prendete il controllo del vostro modo di rapportarvi alla realtà comincerà a lavorare l'intenzione esterna e per essa non c'è nulla di impossibile l'importante è reindirizzare l'attenzione dal riflesso all'immagine in altre parole prendete il controllo dei propri pensieri non pensare a quello che non si vuole e si cerca di evitare ma a ciò che si vuole e si aspira a raggiungere bene amici per oggi ci fermiamo qui andremo avanti con l'ottavo giorno la prossima volta ciao